Soddisfazione per l'affluenza alle urne per Forza Italia, alti i numeri delle presenze, finalmente sono stati resi noti i nomi dei candidati per le prossime elezioni che interesseranno i comuni di Francavilla, Lanciano, Vasto, Roseto degli Abruzzi e Sulmona. Per quanto mi riguarda, doppia soddisfazione per l'affluenza, un numero imponente, circa 10.000 elettori di centrodestra che vanno a queste tre primarie, per me dicevo doppia perché in questi due anni ho contestato la scelta delle primarie che non si volevano far fare rispetto alla segreteria regionale che diceva che Berlusconi mai avrebbe autorizzato e mi sembra che invece siamo diventati un caso nazionale come noi chiedevamo perché sappiamo che quando non si riesce ad avere una sintesi su un unico candidato il centrodestra riesce a perdere anche dove è maggioranza. Invece oggi abbiamo dimostrato di avere candidati unici, forti, i numeri hanno dimostrato che abbiamo superato le primarie del centrosinistra, noi non siamo abituati alle primarie quindi sta a significare che a giugno c'è la possibilità di ribaltare un risultato bugiardo, quello delle regionali 2014. Nessuna sorpresa sugli eletti, sono state rispettate le attese secondo i forzisti ma una sorpresa c'è, sottolinea Febbo, ed è quella che riguarda il comune di Francavilla che non presenta nessun candidato e la frecciatina è rivolta a due esponenti in particolare per il loro silenzio in merito. Da un lato Nazario Pagano, coordinatore regionale e dall'altro Daniele Damario, coordinatore provinciale. La sorpresa è che Forza Italia non candida un proprio candidato proprio nella città del coordinatore provinciale. Questo è qualcosa che qualcuno della segreteria regionale, della segreteria provinciale gli chiede, ci deve ancora spiegare.